L'Etna si è svegliata di nuovo. Il grande vulcano siciliano infatti, dopo qualche mese di tregua, ha ripreso nuovamente la sua attività stromboliana dal cratere di nord-est, scuotendo in tutti i sensi, già dalla giornata di ieri, i paesi alle pendici con forti boati e tremori, mentre nel cielo sono comparsi abbondanti emissioni di fumo. La situazione non è cambiata neanche oggi, infatti sono numerose le esplosioni che si registrano, mentre un debole strato di cenere lavica comincia a ricadere sui paesi alle pendici, cominciando ad impensierire abitanti e amministrazioni comunali. Al momento però, dicono gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dal cratere non emergono né colate né fontane di lava, mentre i sismografi dell'INGV continuano a registrare un graduale aumento del tremore vulcanico, al di sopra della media, accompagnato da un intenso degassamento e da sporadiche e deboli emissioni di cenere dallo stesso cratere. In realtà la ripresa dell'attività eruttiva, che è stata percepita ieri, è stata registrata dagli studiosi già dagli inizi di aprile, quando gradualmente è ripartita l'attività stromboliana nella parte più alta del vulcano, che si è manifestata con un aumento dell'emissione di gas soprattutto dal cratere di nord-est e dalla bocca che si è aperta il 25 novembre scorso sull'alto fianco orientale del nuovo cratere di sud-est. Un segnale della ripresa dell'attività dell'Etna è dato dall'aumento del tremore vulcanico, che ha visto un incremento progressivo nelle ultime ore, fino a toccare livelli elevati nella giornata di oggi. Dalla SAC, invece, fanno sapere che nonostante l'emissione di cenere, non si registrano al momento disagi per lo scalo catanese di Fontana Rossa, che resta pienamente operativo.